72 arrivo sulla destra, Galenta Pierantini la prima delle ragazze, è ancora qua, si è l'unica costante della simedizione, Galenta Pierantini, Cari Niccoli, Arturo Mismara, Piero Cascione, Patronica Santa Marinella, arrivo sulla destra, numero 25 arrivo sulla destra, arrivo per il numero 75 arrivo sulla destra, volo domani, 202, 249, 102 arrivo sulla destra